salve amiche ed amici qui il vostro sempre cian vi saluta ancora una volta sono uscito a fare la stessa come potete vedere anche oggi non ho caricato il video che ho fatto l'altra volta ieri o l'altro ieri quando sono uscito a fare la stessa allora rimetterò assieme vi ringrazio ancora una volta di seguirmi e di apprezzare i miei sforzi per compartire condividere cose con tutte e tutti voi spero che siano dei video che vi piacciono tenete in considerazione che sono disoccupato e quindi vi ringrazio di tutto l'aiuto che ricevo le visioni che ricevo i commenti che ricevo e mi piace che ricevo mi raccomando mettete il mio i miei video quelli che vi piacciono nelle vostre liste di riproduzione e fate clic nei banner pubblicitari se potete io adesso non ho potuto fare altri video in questi giorni forse è passata già una settimana o più mi rincresce perché ho tante cose da dirvi ma soprattutto voglio fare un brogliaccio di cose scriverle perché altrimenti vado a zonzo perché ho tante cose da dire però se le dico così a caso come mi viene vengono confuse allora forse oggi o in questi giorni farò altri nuovi video ma faccio questo video per tenermi in contatto con tutte e tutti voi dirvi che non mi discordo e che anche questo dovrò fare qualcosa quindi mi raccomando non lasciate di seguirmi grazie ai nuovi iscritti di esservi iscritti a tutti gli altri che hanno pazienza di seguirmi e che gli piace come faccio i video perché io non li so fare in un altro modo non ho un editore di video sono disoccupato su quello del sistema non so fare i tagli non so mettere la musica perché poi youtube scoccia con i diritti d'autore cioè nonostante o del pubblico nonostante come faccio i video quindi evidentemente a qualcuno i video gli piacciono sono contento che così sia qua oggi fa un caldo boia sempre estate e quindi vi ringrazio a tutte e tutti voi di seguirmi qui in questo supermercato già girato dei video e hanno fatto delle delle trasformazioni urbane costruendo nuovi edifici questa prospettiva è nuova del giardino quindi mi raccomando grazie di seguirmi ancora una volta cercherò di trovare delle novità da trasmettervi apprezzo che voi appreziate come io giro i video così parlando senza prendere senza fare dei tagli facendo delle pause perché voglio condividere tutto con voi pure che mi metto a pensare in camera non voglio apparire intelligente un genio e io sono così come sono e mi condivido con tutte e tutti voi per trasmettere quello che penso quello che provo non voglio apparire come uno che fa dei video magistrali un genio del taglio un cinematografo no io sono un usuario comune corrente come tutte e tutti voi che semplicemente vuole condividere quello che sente quello che trova trovatemi in instagram perché io li tutti i giorni carico delle foto metto light e poi non so che dire grazie di seguirmi di apprezzare i video come li faccio perché li faccio col cuore per condividere con tutte e tutti voi quello che penso e mi raccomando se avete dei temi da proporvi da propormi se avete dei temi da propormi voi proponete che io sarò contento di parlare ciò di cui vi piace a voi adesso sono un po indaffarato sovra pensiero devo fare la spesa sono uscito un momento di pausa che mi fa male il piede allora mi raccomando grazie di seguirmi proponetemi dei temi se potete commentatemi video se potete fate delle video risposte ciao arrivederci ci vediamo salve cari amiche ed amici dal vostro santa in can come vedete sono uscito a fare la stessa e pomeriggio beh quasi sera sono le 19 19 30 io mi stanco molto facendo la stessa non si finisce più adesso mi sono venuto a ripassare un po perché ciò ciò male una gamba quanti vedono i miei video lo potranno vedere forse dovrò prendere una pasticca di antidolorifico ho fatto dei video in questi giorni anche se con discontinuità perché c'è degli impegni da fare anche della fisioterapia però da fare ancora qualche video sempre che il mio dolore alla gamba me lo permetta in questi giorni è diventato più acuto vabbè anche se faccio fisioterapia vi ringrazio molto di seguirmi stiamo per raggiungere quota 70 mila visioni del canale anche se youtube ancora non mi dà neanche un centesimo e poi grazie di seguirmi in instagram io cercherò di fare sempre del mio meglio per offrirvi degli argomenti e dei video sempre migliori ogni tanto carico anche in google plus beh come dire è sempre per me una grande soddisfazione vedere che guardano i miei video e poi ricevere dei commentari però ancora nessuno mi ha mandato delle video risposte e quello mi spiace un po perché vorrei ascoltare e vedere voi e farmi delle domande propormi dei temi e rispondermi o in qualche modo e quindi mi raccomando filmatevi e caricate la vostra risposta il link del vostro video del vostro canale di youtube come risposta al mio video che volete commentare mi piacerebbe ricevere delle video risposte quindi fate delle video risposte fatemi contento mai nessuno che mi fa delle video risposte fate dei video rispondendomi facendomi domande poi mettete il link come risposta beh vi aspetto ciao a presto ciao 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 ciao